Sai perché Benjamin Aguero è il bambino più fortunato del mondo? Lui è il figlio di Sergio Aguero, ex attaccante del Manchester City e della Nazionale Argentina. È anche il figlioccio di Lionel Messi, recente vincitore del suo ottavo pallone d'oro. Ma non solo, è il nipote di Diego Maradona, una leggenda del calcio. Con questi geni potrebbe essere un campione in erba, ma Benjamin ha altri sogni. Vuole essere un musicista, non un calciatore.